Allora siccome la QNAP ci ha dato dei giocattoli bellissimi e noi li abbiamo preparati, li abbiamo assemblati Adesso andiamo a giocarci e per andare a giocarci ci andiamo a giocare in un posto molto bello A Trieste che è qua a due passi E lo faremo come dei veri pendolari Il treno sta continuando a andare verso la stagione quindi credo che entreremo in McDonald's Ho il sole negli occhi e ci sono persone con pettinature incredibili e adesso niente non ci resta che Siamo a Trieste da dieci minuti e ci siamo già fermati perché abbiamo fan Ok, Jack è partito a fare una ripresa con la sua bellissima GoPro Hero 7 e non sappiamo dove è andato Tipo sparito, è sparito all'orizzonte, credo sia morto Se gira la camera c'è un cerca Wall-E, meraviglioso Non sappiamo Questo o questo? Abbiamo trovato un segno Tutto occhio Però è scritto sbagliato quindi niente Sì, siamo arrivati al foro romano in centro Trieste Il sole ormai sta iniziando a calare, abbiamo girato già un sacco di video, fatto un sacco di foto Tra un attimino andremo a verci qualcosa, un frappè, un cassè Vai così scarichiamo tutta la roba sull'est Bene, adesso i filmati sono stati salvati sul nostro Kunap a casa E nel pomeriggio cominceremo la parola cifra La giornata di ripresa è andata bene, è finita Il sole è calato, abbiamo provato un po' tutte le attrezzature che dovranno portarci in Giappone Anzi una buona parte E siamo riusciti a salvare tutti i dati sul NAS Attraverso semplicemente il cellulare a distanza Crediamo di averli salvati tra un po' lo scopriremo Quindi adesso andiamo a casa, vediamo che cosa abbiamo combinato E cerchiamo di cominciare il lavoro del montaggio Grazie a tutti